I lavori sulla Trignina preoccupano le imprese dell'autotrasporto. Mentre sembra ormai scongiurata la chiusura del tratto in provincia di Sernia per gli interventi di manutenzione alla Galleria Serre, l'Assotir, attraverso il suo presidente regionale Giuseppe Doganieri, chiede un incontro urgente con il prefetto Franca Tancredi. Gli autotrasportatori vogliono garanzie sulla nuova ordinanza ANAS e chiedono che al posto della deviazione del traffico nei paesi vengano installati semafori intelligenti. Quando c'è un semaforo che si mette sul rosso e non c'è traffico, non c'è niente e tu stai lì a aspettare tanto tempo se lo regoli di persona che è inutile aspettare tanto tempo. Anche perché il semaforo già c'è stato su quella galleria e non ci siamo stati il tempo come dice l'ANAS, 20 minuti, no? Assolutamente, non ci siamo stati. Il trasporto merci purtroppo non lo mettono tanto in considerazione. Loro fanno il lavoro loro, quello devono fare, si potrebbe fare in altri periodi, invece facciamo in un periodo invernale quando le strade interne sono più pericolose, i sindaci non vogliono tanto traffico nei loro paesi e tutte queste gravi cose quando si potrebbero evitare tranquillamente. Parliamo di 2.000 camion al giorno. Credo proprio qualcosa in più, sì, che passano sulla Trignina. Non so, 2.000 camion passano anche nel paese di Trivento, non so cosa comporterebbe. Perché la strada, sì, è una bella strada, io me la so, la strada, il fondo è buono, tutto quello che c'è, però sono strade collinari. Sono strade collinari che in periodo infernale è inutile che diciamo andiamo a mettere un segnale che in caso di nevigata oppure di pioggia gelata, di vieto di transit, da dove rimettiamo tutti questi camion ammucchiati poi quando arrivano? Ogni viaggio per i camion potrebbe costare fino a 100 euro in più di gasolio senza contare lo stress e le ore di lavoro in più. Se un trasportatore fa 5 viaggi a settimana sull'Abruzzo, in Abruzzo, diciamo, San Salvo, in queste condizioni ne farà 4. Più il costo del gasolio, di tutte queste cose qua, un camion non consuma solo il gasolio, consuma tante cose. Il periodo infernale sulla deviazione sarebbe un disastro totale, sì, sì. Lei ha chiesto anche un incontro con il prefetto? Sì, abbiamo chiesto un incontro con il prefetto proprio per risolvere questo problema del semaforo. proprio per risolvere questa cosa. Sperando che il prefetto ci dia retta.